Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso che ho trovato davvero triste e raccapricciante. Me l'ha chiesto molto tempo fa qualcuna di voi tramite i commenti sotto qualche video. L'altro giorno ho ritrovato l'appunto sulla mia agenda e quindi ho deciso di approfondire per andare un po' oltre il mero atto delittuoso che sicuramente vi apparirà immediatamente se su Google scrivete Sophie Lyonnais. La protagonista del caso di oggi è proprio lei. Devo ammetterlo, quando tratto di casi in cui ci sono delle ragazze o dei ragazzi che fanno una brutta fila mi si spezza sempre un po' il cuore. È facile giudicare dall'esterno, me ne sono resa conto io per prima. È troppo facile col seno di poi pensare, io non l'avrei fatto, io lì non ci sarei andata. Su questo canale abbiamo spesso parlato di conoscenze nate online e finite in tragedia, sia tra persone adulte che tra persone giovani. Purtroppo con queste circostanze è probabile che la fregatura arrivi presto. Chiaramente questa non è la regola, ci sono delle coppie che si sono conosciute online, vanno d'amore e d'accordo e sono stati in grado di costruire una relazione solida da quel messaggio scritto in quella chat. Specifico perché sembra che io demonizzi con tutta me stessa a prescindere tutti i siti di incontri. No, non è così. A mio parere è sufficiente essere giudiziosi nelle scelte che compiamo. Comunque oggi ho deciso di parlarvi di un caso che inizia nel migliore dei modi e si conclude, ahimè, in tragedia. E anche se in maniera diversa dai casi che abbiamo sempre trattato, il tramite è sempre internet. La protagonista della nostra storia, come già vi ho detto, si chiama Sophie Lionnet. Nasce il 7 gennaio del 1996 da Catherine de Vallone e Patrick Lionnet a Troyes, nel nord-est della Francia. Troyes si trova circa due ore a sud da Parigi. Sophie, quando i suoi genitori divorzano, è ancora piccola e poco dopo sua madre Catherine si risposa con Stefan de Vallone, che per l'appunto diventa il patrigno di Sophie. Nonostante il divorzio, la ragazza rimane vicina ad entrambi i genitori e va anche molto d'accordo con il patrigno. Catherine, la madre di Sophie, lavora in un supermercato di cibi surgelati, mentre Stefan, il suo patrigno, fa il giardiniere. Sophie è una ragazza tendenzialmente tranquilla, è gentile, disponibile con tutti. Però crescendo inizia a cambiare un pochino, diventa un po' più timida e riservata. Ha lunghi riccioli scuri, accompagnati da due splendidi occhi grigio-verdastri. Ama molto gli animali e crescendo Sophie prova a fare diverse cose, perché è una ragazza intraprendente, infatti impara a strimpellare la chitarra, legge parecchio, impara a pattinare sul ghiaccio. Inoltre Sophie detesta con tutta se stessa le sofferenze e le ingiustizie. Fa volontariato, aiuta gli animali in difficoltà e prova anche a prevenire la crudeltà sugli animali. È altruista, generosa, non è particolarmente interessata ai beni materiali. Insomma, vi sto descrivendo una ragazza d'oro. Ma c'è una cosa che Sophie ama più di qualsiasi altra cosa, ossia i bambini. Ama stare con loro, ha già fatto talvolta la babysitter per i suoi vicini, ed è sempre in grado di convincere i loro figli a fare i compiti. Primo il dovere, poi il piacere. Sophie fa estremamente bene il suo lavoro, ed è proprio portata a stare a contatto con i bambini. Concluso le scuole superiori, Sophie deve decidere cosa fare. Come vi ho già detto, è sicuramente una ragazza intraprendente, ama gli animali, ma, come già vi ho detto, fa anche la babysitter, quindi ama i bambini. Quindi alla fine decide di studiare all'università educazione della prima infanzia. Perché capisce che quella è la sua strada. Al termine dell'università, Sophie purtroppo fatica parecchio a trovare un lavoro. Si rende conto che non è affatto facile, lei vorrebbe diventare una maestra d'asilo. Ma, ahimè, dopo parecchi colloqui si scoraggia un po'. Fino a che una sua amica, un giorno, le mostra un annuncio di lavoro su internet in cui una famiglia londinese cerca una ragazza alla pari che vada da loro per occuparsi di due figli. Londra è chiaramente molto più grande rispetto alla cittadina in cui ha sempre vissuto Sophie. Non sarebbe stata assolutamente un'impresa da poco, considerando la sua timidezza. Peraltro è anche parecchio riservata e un po' ingenua. Sophie non è una ragazza di molte parole. Anche i suoi genitori sostengono sia davvero una ragazza molto, molto chiusa con cui è difficile parlare. Sophie però in questo caso si fa coraggio, manda quel curriculum e viene assunta. Sophie la prende come un'avventura, sicuramente i primi tempi non sarebbe stata tranquilla e rilassata lontana da casa. Ma per Sophie questa è un'opportunità per viaggiare, per imparare meglio l'inglese. Per di più Sophie lavorerebbe effettivamente con dei bambini, acquisendo inevitabilmente esperienza per la sua carriera futura. Perché Sophie vuole diventare davvero maestra d'asilo. È così che nel gennaio del 2016, poco dopo il suo ventesimo compleanno, Sophie si trasferisce a Londra. Dovrebbe tornare a casa a settembre. In quanto quella Sophie la considera un'esperienza momentanea e utile per poi riuscire a trovare in futuro un lavoro in Francia. Ed è qui che entrano in scena gli altri personaggi della nostra vicenda. Perché Sophie va a lavorare per Sabrina Cuider e Wissem Meduni. Due cittadini francesi che però vivono a Wimbledon, un quartiere molto ricco e di conseguenza molto tranquillo di Londra. Per di più gli abitanti di questo quartiere sono molto uniti. Si conoscono tutti, sono tutti amici, si aiutano a vicenda. E che cosa succede quando di solito i vicini si conoscono? Beh, di norma sanno proprio tutto di tutti. Ma soprattutto parlano tra di loro. E tutto questo parlare dà via ovviamente a delle voci che purtroppo in questo caso si sono rivelate veritiere. Ma andiamo con ordine. Sabrina nasce in Algeria ma si trasferisce da bambina in Francia. A 19 anni gestisce uno stand di crepe in un Luna Park alla periferia di Parigi quando incontra Wissem che di anni ne ha 24. Wissem è incantato dalla bellezza di Sabrina. Quella ragazza è affascinante e quindi inizia subito a corteggiarla. I due ben presto quindi si mettono assieme però Sabrina fa un po' quello che le pare. O meglio, tradisce spesso Wissem con altri uomini. Lo lascia spesso per altri uomini. Però alla fine Sabrina, quando rimane da sola, torna sempre correndo da Wissem. Allo stesso tempo il ragazzo è troppo innamorato per lasciarla andare. Evita addirittura di farle domande. Se Sabrina torna e vuole stare di nuovo con lui, Wissem accetta. Nel 2005 Sabrina ha 22 anni e lascia la Francia perché ha trovato a Londra un lavoro come ragazza alla pari. Wissem a questo punto ha 27 anni e decide di seguire la sua amata a Londra trovando successivamente il lavoro come analista finanziario in una banca. mentre Sabrina diventa una stilista e una truccatrice di successo. Passano gli anni, Sabrina e Wissem a questo punto nel 2013 affittano l'appartamento a Wimbledon e si trasferiscono lì con i due figli di Sabrina che hanno due padri diversi. Nessuno dei due bambini è figlio di Wissem. Il più piccolo di Sabrina che ha 4 anni è del suo ex fidanzato Mark Walton Un uomo che vi cito ora ma che apparirà nuovamente in questa storia anzi sarà centrale in questa storia. E ora torniamo al concetto che c'è nel quartiere in cui vivono Sabrina e Wissem in quanto i vicini li considerano antisociali e strani perché non vogliono fare parte della loro comunità non si vedono mai in giro. Sabrina sostengono i vicini sia sicuramente una tipa affascinante e sempre vestita di tutto punto però la coppia non è molto gradita. Insomma, per farvela breve sta antipatica a tutti. Infatti Sabrina e Wissem spesso lasciano la spazzatura fuori casa per giorni causando odori poco piacevoli. Sono soliti bloccare i violetti dei vicini con le loro auto perché parcheggiano come dove pare a loro. E a quanto pare ciliegine sulla torta spesso e volentieri non pagano per tempo l'affitto al padrone di casa. Sabrina, peraltro, grazie al suo lavoro è spesso a contatto con persone famose, modelle e questo tipo di vita le piace parecchio in quanto Sabrina ha un sogno diventare famosa. Lei vorrebbe essere conosciuta dalle persone vorrebbe che le persone la fermino per strada per fare delle foto con lei. Quella è la sua massima aspirazione per ora si accontenta di far parte di quel mondo ma il suo obiettivo è essere la protagonista e in effetti tra Wissam e Sabrina quella con il carattere decisamente più forte è lei. Mentre Wissam, ormai quarantenne, è tutto sommato un tipo tranquillo, simpatico e intelligente nonostante sia un pessimo vicino a quanto pare per Sabrina la situazione cambia perché ama attirare l'attenzione su di sé. Come vi ho già detto ha un carattere molto forte e insomma a quanto pare Wissam arriva addirittura ad essere intimidito da lei. Ma torniamo a Sophie che arriva a casa della coppia nel gennaio del 2016 e tutto sommato all'inizio pare che tutto vada bene. I due bambini adorano Sophie e entrano immediatamente in sintonia con lei e chiaramente Sophie è felice perché sta facendo quello che ha sempre desiderato fare. Per di più ha avuto il coraggio di partire quindi in un certo senso ha superato la sua tendenza ad essere timida. È chiaro, il suo carattere non è mutato con uno schiocco di dita ma quell'esperienza la sta aiutando molto e Sophie ne va molto fiera. Inoltre Sophie parla quotidianamente con sua madre le racconta delle sue giornate le racconta dei bimbi di cui si deve prendere cura le pare della famiglia che tutto sommato l'accolta bene. Sabrina inoltre fa la stilista e grazie al suo lavoro può presentarle un sacco di persone famose perché le conosce. Insomma per Catherine, la madre di Sophie è chiaro che la figlia stia bene è entusiasta del suo lavoro momentaneo ed è felice di trovarsi lì a Londra con quella famiglia. Tuttavia le cose in me purtroppo ben presto iniziano a precipitare perché Sabrina oltre a essere una donna che tradisce il suo compagno spesso e volentieri ha un comportamento davvero instabile spesso e volentieri ha degli sbalzi d'umore fuori dal comune ma soprattutto e qui torna un uomo che abbiamo già nominato prima Sabrina è un'ossessione davvero malsana verso il suo ex fidanzato ve l'ho già nominato prima ossia Mark Walton che non è proprio un tizio qualunque la sua carriera inizia nel 1993 quando fonda la boy band Boyzone Mark però ci rimane poco in quella band passa circa un anno e poi viene cacciato nonostante ciò diventa un vero e proprio magnante della musica diventa un produttore importante lavora con artisti davvero celebri come ad esempio Jennifer Lopez nel 2016 dichiara di essere un miliardario quindi possiamo dire tranquillamente che Mark Walton padre del figlio più piccolo di Sabrina è una persona famosa e a quanto pare i due hanno avuto una relazione tra il 2011 e il 2013 ma la loro storia per come la descrive Mark è stata molto molto problematica in quanto per l'appunto Sabrina aveva continuamente sbalzi d'umore un secondo prima era tranquilla e poi senza un motivo apparente un secondo dopo iniziava ad arrabbiarsi ora a mio modesto parere ci sono tanti livelli di rabbia si può essere un pochino arrabbiati mediamente arrabbiati o ancora molto arrabbiati oppure se è nel nostro carattere possiamo arrivare a non vederci più dall'ira io stessa sono una persona che si è portata allo stremo e credetemi ce ne vuole per portarmi allo stremo però se mi ci porti e vengo travolta da quella rabbia cieca smatto letteralmente do di testa non ci vedo più e inizio a urlare come una cornacchia ma mi ci devi portare con tanta tanta forza di volontà a quel punto in quel modo ci sono persone che non hanno assolutamente un indole simile quindi anche se le porte allo stremo si allontanano senza dare troppe spiegazioni anche per evitare il confronto il litigio ebbene Sabrina diventava furibonda di colpo eh senza un motivo apparente quindi lei e Mark litigavano spesso in quanto Sabrina si arrabbiava tantissimo per cose davvero futili a causa della gelosia Sabrina spesso e volentieri si metteva ad urlare a commesse in dei negozi o a cameriere in dei ristoranti perché secondo la sua modesta opinione avevano guardato un po' troppo Mark ovviamente a Mark tutto ciò non è che andasse proprio a genio ma anche lui era fortemente affascinato da Sabrina non riusciva a lasciarla fino a quando Sabrina ha dato proprio il peggio di sé infatti Sabrina aveva iniziato ad accusare Mark costantemente di andare a letto con altre persone prodotte uomini era arrivata ad accusare Mark di nascondere delle telecamere in casa sua col fine di poterla spiare ormai siamo nel 2013 ed è in questo periodo che Mark aveva mandato a stendere Sabrina di quanto ne aveva abbastanza è così che Sabrina come da prassi era corsa di nuovo da Wissem che tutto sommato alla fine era sempre lì pronta a confortarla Sabrina l'aveva tradito? assolutamente sì ma Wissem si è sempre comportato in questo modo Mark Walton nel frattempo l'ex di Sabrina anche per cambiare area decide di trasferirsi a Los Angeles mentre per l'appunto Sabrina e Wissem si trasferiscono in quell'appartamento a Wimbledon però c'è da dire che in questo periodo Mark dà dei soldi a Sabrina anche perché avevano fatto un figlio assieme però arriva un momento in cui Mark decide di smettere di darle i soldi non le sgancia neanche più un Penny di conseguenza Sabrina sviluppa un'ossessione che ha dei tratti davvero inquietanti verso di lui inizia ad accusarlo di cose totalmente assurde sostiene che Mark voglia fare del male a lei e alla sua famiglia inoltre la sta anche inseguendo la sta perseguitando Sabrina dice che Mark la controlla usando la magia nera inoltre lo accusa di aver molestato il suo gatto Sabrina non possedeva alcun gatto Sabrina ovviamente crede fortemente a queste teorie totalmente fuori logica e chiama anche più volte la polizia per cercare di denunciare Mark la polizia quindi che fa indaga e ci mette ben poco a capire che le affermazioni di Sabrina non hanno alcun fondamento oltre ad essere folli il tutto infine viene coronato da una diffida da parte di Mark nei confronti di Sabrina per diffamazione online in ogni caso anche con Wissam la relazione non è assolutamente stabile anche perché i due si erano conosciuti da giovani poi si erano lasciati più e più volte Sabrina quindi si faceva i suoi giretti trovava altri partner che poi puntualmente la lasciavano dunque correva da Wissam a piangere col tempo però Wissam fa uno più uno e capisce come bisogna comportarsi con Sabrina ossia male infatti nonostante vivano insieme l'uomo spesso e volentieri si allontana da casa e sparisce per tanto tempo per mesi non si fa vivo non risponde alle chiamate poi di colpo torna a casa a questo punto è chiaro siamo immersi in delle relazioni totalmente disfunzionali problematiche sbagliate da ogni punto di vista arriviamo quindi al momento in cui per Sophie la ragazza alla pari le cose precipitano partiamo da sua madre perché Catherine inizia a sentire sua figlia sempre di meno e comunque quando la sente si rende conto che c'è qualcosa che non va ogni volta è sempre chiudì di morale triste della volta precedente Sophie è molto aperta con i bambini ma non esce mai da sola è sempre con Sabrina quindi i vicini pensano sia una parente ipotizzano che Sophie sia la cugina di Sabrina i vicini di casa non hanno idea che Sophie sia una ragazza alla pari non immaginano neanche che Sophie stia lavorando per Sabrina l'unica persona con cui Sophie ha stretto una specie di rapporto se così vogliamo chiamarlo è Michael Croner un uomo che ha una bancarella in cui prepara fish and chips e da cui Sophie si riega molto spesso Michael per primo nota un cambiamento di Sophie nel tempo mano a mano che passa il tempo sembra sempre più triste è vero ma è anche fortemente trascurata Michael infatti nota che Sophie indossa gli stessi vestiti per più giorni inoltre ad un certo punto la ragazza inizia ad ordinare solo una porzione piccola di patatine fritte sembra quasi che non abbia dei soldi da spendere Sophie mangia sempre tutto con estrema voracità sembra sempre affamata mangia velocissimo in pochi minuti per poi scappare a Michael dice che non ha tempo deve tornare al lavoro a questo punto Sophie smette di mandare dei messaggi a sua madre tramite telefono e inizia a contattarla tramite facebook le dice che lì ora non sta affatto bene vuole andarsene ma ha bisogno di soldi per il biglietto di ritorno a questo punto la madre di Sophie carica e men che non si dica dei soldi nella carta di credito di sua figlia e le dice Sophie se tu lì non stai più bene torna a casa poco dopo però la madre di Sophie riceve due telefonate a dir poco inaspettate Stefania infatti chiama Catherine e le dice che Sophie ha fatto proprio delle cose che non doveva fare ha combinato dei gran pasticci ecco perché al momento non può proprio tornare a casa Sabrina dice alla madre di Sophie che sua figlia sarebbe rimasta con loro ancora per un po' in quanto ci sono stati dei problemi dei disguidi che vuole assolutamente risolvere prima che Sophie torni a casa ovviamente la madre di Sophie Catherine risponde a Sabrina di farla tornare a casa il prima possibile la situazione è risolta siamo ad aprile del 2017 facciamo un bel balzo in avanti arriviamo al 20 settembre del 2017 e un vicino di casa di Sabrina e Wissem nota del fumo denso provenire dal loro giardino sembra in effetti stiano grigliando però secondo il vicino quel fumo è troppo attaccato alla casa lui non ha confidenza con Sabrina e Wissem non conosce i loro orari non sa quando escono e rientrano a casa quindi per evitare qualsiasi eventuale rimorso chiama i pompieri quando i vigili del fuoco arrivano sulla scena ed entrano nel giardino di casa di Sabrina e Wissem notano che effettivamente il fumo proviene da un barbecue quindi si avvicinano a questo barbecue e trovano dei resti umani trovano i resti di un corpo che la coppia stava cercando di bruciare la polizia in me ci metterà una settimana ad identificare quel corpo è di suo figlio ovviamente sia Sabrina che a Wissem vengono messe le manette la prima cosa che chiede la polizia a Sabrina è dove diavolo sia la ragazza alla pari che sta con lei da mesi e mesi ma Sabrina mente dice che l'ha rispedita a casa in Francia la licenziata in quanto era una persona veramente terribile era pigra non faceva niente stava per tutto il tempo sul divano peraltro Sabrina dice anche di aver scoperto Sophie rubare un suo anello di diamanti quindi le da pure della ladra la polizia insomma non è assolutamente sicura di queste informazioni ma inizia a indagare e più la polizia indaga più pare che la vera storia prenda forma sempre di più in quanto Sabrina dice alla polizia che Sophie era una pessima persona anche perché aveva scoperto che aveva una relazione con Mark Walton il suo ex ragazzo famoso di cui era ossessionata ovviamente Sabrina dice tutto questo perché ne è fortemente convinta sostiene che in realtà Sophie lavorava per Mark Walton il motivo per cui era andata a casa sua dalla Francia era uno e solo uno e no non era perché Sophie era brava con i bambini o perché era una persona gentile e dolce no Sophie è andata da lei proprio col fine di spiarla per conto di Mark Walton infatti Sophie e Mark stavano pianificando di rapire il figlio più piccolo di Sabrina il cui padre è proprio Mark Walton perché? beh perché Mark è una persona che fa cose molto brutte ai bambini e quindi di conseguenza avrebbe anche fatto del male e traumatizzato suo figlio ma non è finita qui perché Sabrina racconta alla polizia ulteriori assurdità a quanto pare Sophie stava anche cercando di incastrare il suo compagno Wissam prelevandogli di nascosto il suo liquido del massimo piacere per poter inscenare una violenza secondo Sabrina tutti questi assurdi piani diabolici erano stati architettati dall'inizio alla fine da Sophie e Mark Walton ma credete che sia tutto qui? no no Sabrina va oltre infatti sostiene di aver visto con i suoi occhi Sophie e Mark Walton ha letto insieme in casa sua ma anche qui la polizia non ci mette molto a capire che Sabrina ha mentito per tutto il tempo non ha detto una sola cosa vera in quanto Mark Walton si era trasferito a Los Angeles nel 2013 e lì era rimasto inoltre quando la polizia va a interrogarlo Mark ammette che non sa neanche chi sia questa Sophie non l'ha proprio mai vista in vita sua la polizia a questo punto si fa due conti e si rende conto che sì Sabrina è decisamente una bugiarda ha raccontato un'enorme balla su Mark Walton ma ha mentito anche su Sophie il dubbio c'è ma la polizia a questo punto finalmente decide di sequestrare i cellulari di Sabrina e di Wissam e da quei telefoni ahimè recuperano dei video che lasciano poco spazio all'immaginazione hanno fatto del male in dei modi indicibili a Sophie e lo hanno fatto per mesi col tempo le hanno confiscato la carta di identità la carta di credito con tutti i suoi soldi e il suo cellulare Christine la madre di Sophie ricorda l'ultima chiamata da parte di sua figlia avvenuta l'8 agosto 2017 Sophie al telefono con sua madre piange ma dice cose senza senso questo perché da mesi ormai la ragazza viene picchiata da Sabrina e Wissam la interrogano tutti i giorni per la sua presunta alleanza con Mark Walton e ahimè non la fanno mangiare ed è possibile vedere in alcune foto quanto sia magra la povera Sophie nei 12 giorni prima del suo omicidio a Sophie non è permesso mettere il naso fuori di casa neanche per sbaglio ed emerge ben presto che Wissam e Sabrina nelle ultime 6 settimane di vita di Sophie hanno dato il peggio di loro in quanto hanno iniziato quotidianamente a picchiarla col fine di farle confessare la verità di Sabrina una verità che ripete ossessivamente a Wissam ossia Sophie lavora in colbutta con Mark Walton vuole fare del male vuole rapirlo vuole farci del male contro Sophie purtroppo Sabrina e Wissam hanno usato anche un cavo elettrico oppure riempivano la vasca d'acqua e le immergevano alla testa fino a farla svenire piccolina e magra come era Sophie come poteva anche solo provare a ribellarsi avevano ridotta pelle e ossa proprio per farle perdere ogni tipo di forza non solo fisica ma anche mentale le hanno fatto perdere la volontà di andarsene la privazione di cibo protratta per così tanti mesi peraltro talvolta porta l'individuo a lasciarsi andare mi spezza il cuore dirlo ma presumo che la povera Sophie ad un certo punto si sia semplicemente lasciata andare accettando il suo destino il medico legale che esamina i resti della povera Sophie sostiene che ha lo sterno rotto e 5 costole rotte secondo suo parere Sophie è morta a causa di una lesione al cranio che sembra una lesione da caduta più che da corpo contundente però a questo punto purtroppo si parla di ipotesi non è chiaro il vero motivo del decesso di Sophie intanto accadono due cose contemporaneamente dei polizzotti si recano dai vicini di Sabrina e Wissam per capire se le affermazioni che Sabrina ha fatto nei confronti di Sophie siano vere oppure siano anche quelle delle balle è così che i polizzotti scoprono che Sophie era una ragazza tutt'altro che sbogliata o pigra al contrario Sophie era sempre dietro i bambini di Sabrina e da quando Sophie è arrivata sembra proprio che Sabrina abbia iniziato a trascurare i suoi figli tanto che alla fine per quei bambini Sophie è diventata una figura a cui dare fiducia a cui appoggiarsi con cui giocare con cui passare il tempo con cui fare i compiti per di più Sabrina ad un certo punto ha iniziato ad abbaiare ogni sorta di ordine a Sophie andava a trangugiare una porzione piccola di patatine e correva nuovamente a lavoro perché in pratica era diventata la domestica privata di Sabrina in casa faceva tutto Sophie lavava cucinava stirava stendeva si prendeva cura dei bambini faceva fare i loro i compiti li lavava li metteva a letto faceva tutto Sophie poi concluso il suo lavoro con i bambini Sophie doveva iniziare il suo lavoro con Sabrina la donna rimaneva sfaparanzata sul divano mentre abbaiava ordine a Sophie le chiedeva di prepararle uno spuntino poi di colpo non lo voleva più chiedeva quindi un bicchiere di vino ma poi sosteneva fosse troppo caldo o troppo freddo per i suoi gusti nel frattempo mentre emergono queste prove a dir poco schiaccianti sia Sabrina che Whissam negano di aver ucciso Sophie no loro non l'hanno uccisa hanno solo fatto quell'orribile cosa hanno bruciato il suo corpo ma non sono assolutamente loro i colpevoli della sua morte quando vengono messi esageratamente alle strette perché la polizia ha visto decine di video in cui i due facevano del male a Sophie iniziano a darsi la colpa a vicenda sì è vero entrambi hanno partecipato alle percosse ma chi ha sferrato il colpo finale sembra che per la polizia questa sia un'informazione di vitale importanza io al contrario mi sono chiesta se questa informazione fosse davvero così importante le prove del fatto che Sophie vivesse in condizioni disastrose la polizia le possiede probabilmente insistono perché si cerca sempre di avere un colpevole ma onestamente per quanto mi riguarda conta poco chi abbia sferrato l'ultimo colpo perché tutti i colpi precedenti li hanno sferrati entrambi Sabrina e Wissam peraltro probabilmente si sono anche messi d'accordo per darsi la colpa a vicenda la polizia sa che sono colpevoli forse anche loro iniziano a prendere consapevolezza del fatto che sono colpevoli allo stesso modo ecco perché iniziano a dire entrambi che quando Sophie ha perso la vita stavano dormendo quindi non hanno idea di che cosa sia effettivamente avvenuto Sabrina e Wissam stavano in effetti dormendo nello stesso letto insieme quindi uno dei due si era alzato e aveva fatto del male a Sophie fino a toglierle la vita si accusano a vicenda della stessa identica azione alla fine però Sabrina la meglio lei sostiene che in quel momento stava dormendo si era poi svegliata quando purtroppo per Sophie non c'era più nulla da fare quindi lei di base si era semplicemente limitata ad aiutare Wissam quest'ultimo Wissam si allinea con la stessa identica versione quindi si assume la responsabilità è lui che ha sferrato quei colpi finali Sabrina però come al solito non si arrende non demorde prova ancora a dipingere Sophie come la ragazza che si era trasferita dalla Francia a Londra per complottare con Mark Walton il suo ex fidanzato e lo fa portando una lettera alla polizia quindi una prova quella lettera ovviamente è scritta a mano sì e l'ha davvero scritta a Sophie perché c'è un particolare che non vi ho detto finora dovete sapere che sia Sabrina che Wissam ripetono in modo ossessivo a Sophie che l'unica cosa che deve fare è confessare la coppia dice a Sophie che se confessasse sarebbe liberissima di ritornarsene in Francia ecco perché alla fine Sophie stremata ha scritto quella lettera lettera in cui si prende la colpa di cose ripeto totalmente assurde che lo stanno né in cielo e né in terra e peraltro queste informazioni la polizia le ha già verificate sa già che sono tutte quante stupidate a questo punto però la polizia capisce che effettivamente c'è davvero qualcosa che non va quindi pensano di interrogare di nuovo Mark Walton l'ex fidanzato di Sabrina l'uomo prima di tutto riconferma che lui di queste cose non ne sa assolutamente nulla e all'oscuro dei fatti non conosce Sophie e non l'ha neanche mai vista in faccia però dice un'altra cosa Mark una cosa che a questo punto per la polizia diventa essenziale Mark dice alla polizia chiaramente quanto fosse instabile Sabrina racconta con tranquillità di aver avuto con lei una relazione dalla durata di un paio d'anni ma per lui è stata un incubo quella storia Sabrina aveva continuamente sbalzi d'umore lo accusava di cose assurde di tradirla con chiunque e alla fine quando l'ha lasciata Mark lo dice chiaramente lei non ha mai accettato la cosa Sabrina ha sempre voluto tornare con lui ha insistito per mesi l'ha perseguitato l'ha accusato di falsità davanti ai racconti di quest'uomo non possono far altro che riappoggiare l'attenzione su Sabrina la polizia prova di nuovo ad interrogarla le chiede di nuovo di raccontare la sua versione davvero davvero folle e riascoltando questa versione un paio di volte riescono ad avere un'intuizione che ahimè si rivela veritiera Sabrina è una persona fortemente vendicativa quindi davvero non ha mai accettato che Mark l'abbia lasciata il loro piano è sempre girato attorno a Mark Walton per loro Sophie era un mero oggetto per raggiungere uno scopo ossia incastrare Mark Walton i due ormai erano consapevoli del fatto che non potevano far tornare a casa Sophie in quelle condizioni quindi l'unica scelta che gli rimaneva era sbarazzarsene la polizia a questo punto vuole davvero capire chi abbia sferrato quel colpo fatale vogliono capire chi abbia effettivamente ucciso Sophie e per farlo decidono di interrogare il figlio più grande di Sabrina che ha otto anni il bambino a questo punto fa delle dichiarazioni chiare spaventose e agghiaccianti anche perché per l'appunto sono fatte da un bambino ed è orribile tutto ciò comunque il figlio di Sabrina racconta che la notte in cui Sophie ha perso la vita ossia la notte del 18 settembre si è svegliato e ha sentito dei chiari e forti rumori che lo hanno pure spaventato provenire dal bagno al che si è alzato dal letto è uscito dalla sua camera e ha percorso il corridoio fino a fermarsi davanti alla porta del bagno il bambino sostiene di aver sentito Sophie urlare più volte e di aver sentito le voci sia di Yusem che di sua mamma Sabrina ha pensato di provare ad aprire la porta ma era troppo spaventato per farlo perché sembrava stessero facendo davvero molto molto male a Sophie a questo punto gli agenti di pulizia che donano al bambino si è provato a fare delle domande a sua madre rispetto a questi rumori notturni il bambino di nuovo annuisce e sostiene che sua mamma gli ha risposto che lui non avrebbe assolutamente dovuto preoccuparsi quei rumori insomma non erano nulla di importante ma la tata Sophie se n'era andata perché era ripartita per la Francia a questo punto la polizia ha anche una data del decesso scoprono che Sophie è morta il 18 settembre ma i vigili del fuoco sono intervenuti a casa di Sabrina e di Wissam solo il 20 settembre qui arriva un'altra parte estremamente disturbante perché quando Sophie viene a mancare Sabrina e Wissam decidono di avere un rapporto intimo accanto al suo corpo poi la nascondono in una valigia e quella valigia la mettono sotto il letto di uno dei due bambini la valigia rimane lì fino al 20 settembre fino a quando la coppia non decide di bruciare i resti di Sophie su un barbecue alcuni ritengono che Sabrina e Wissam soffrano del raro disturbo psicologico noto come follia 2 ossia follia 2 detta anche doppia psicosi la follia 2 è una sindrome psichiatrica in cui sintomi di una credenza delirante talvolta con allucinazioni vengono trasmessi da un individuo all'altro a Sabrina viene diagnosticata una depressione un disturbo borderline della personalità oltre a questi disturbi psicologici esistenti ha ripetutamente manipolato Wissam col fine di condividere le sue delusioni d'amore c'è da sottolineare che Wissam era totalmente d'accordo con tutto ciò che Sabrina faceva o diceva non importava quanto fosse bizzarro o impossibile si può dire infatti che Wissam non si era limitato a condividere le delusioni di Sabrina ma le aveva inglobate le aveva fatte sue e le aveva abbracciate con tutto se stesso durante una valutazione psichiatrica Wissam non ha riscontrato problemi di natura mentale ma nonostante ciò ha creduto ciecamente a tutto ciò che Sabrina insinuava su suo figlio su Sophie e infine su Mark Walton quando il comportamento violento era solo da parte di Sabrina Wissam racconta che usciva di casa se allontanava andava a fare una passeggiata piuttosto che unirsi a Sabrina ma non era passato molto tempo perché anche lui alla fine era stato manipolato da Sabrina così anche lui ha iniziato a partecipare ai pestaggi perché perché Sabrina è riuscita a fargli credere che Mark Walton aiutato da Sophie sarebbe entrato in casa loro col fine di aggredirlo intimamente il processo a Wissam e Sabrina inizia nel marzo del 2018 i due di nuovo in aula ammettono di essersi solo sbarazzati del corpo ma non sono loro che hanno ucciso Sophie quando effettivamente devono ammettere chi dei due ha ucciso Sophie di nuovo rincominciano ad accusarsi a vicenda rifiutando di prendersi la colpa a perseguire Wissam e Sabrina c'è Richard Orwell che riferisce alla giuria l'orribile dolore che ha dovuto pattire Sophie negli ultimi suoi mesi di vita peraltro per mano dei suoi datori di lavoro i motivi erano solo mera punizione e vendetta contro Mark Walton un uomo che Sophie neanche conosceva le accuse di Sabrina contro Sophie chiaramente facevano parte di una sua fantasia delirante mentre Wissam era già un individuo tendenzialmente debole sotto messo specialmente quando si trattava di donne specialmente quando si trattava di Sabrina Horwell continua dice alla giuria che Stefania e Wissam sono riusciti a far crollare Sophie con le loro domande assurde ma feroci e implacabili con le percosse con la testa tenuta a forza sott'acqua alla giuria viene mostrato un video che effettivamente è stato girato il 18 settembre dove Sophie confezza tutto ciò che vuole sentirsi dire Stefania Sophie purtroppo perde la vita poco dopo aver registrato la sua confessione quella confessione che a detta dei suoi aguzzini l'avrebbe resa libera di tornare in Francia nonostante gli imputati siano riconosciuti come una coppia gravemente instabile che per l'appunto ha sofferto di follia 2 o se di follia 2 in particolare Sabrina che era la forza trainante per il giudice Nicolas Hillard questa non è una difesa valida per il trattamento terribile che hanno riservato a Sophie quindi Huissem e Sabrina vengono condannati all'ergastolo per un minimo di 30 anni il 6 giugno del 2018 nella cattedrale di Saint-Étienne a Sons in Francia si è tenuta una celebrazione per ricordare Sophie alla quale hanno partecipato ben 150 persone Patrick Lionnet il padre naturale di Sophie dice della figlia Sophie era così premurosa amava i bambini e gli animali non sopportava di vedere gli altri soffrire e mi spezza il cuore sapere che è stata trattata in questo modo fino alla fine della sua vita questa è la triste storia di Sophie Lionnet una semplice ragazza che è partita per fare una nuova esperienza come ragazza alla pari per mettersi in gioco come peraltro fanno anche molte ragazze italiane che peraltro hanno fatto parecchi video sulla loro esperienza qui su YouTube può sembrare assurdo ma queste cose effettivamente possono capitare e a mio parere la cosa più brutta è che inizialmente Sophie stava bene lì non è chiaro se la trattassero bene o meno magari erano solo decenti con lei però a lei bastava questo era felice così è davvero assurdo se pensiamo a quante persone totalmente squilibrate riescano a mostrarsi sufficientemente equilibrate nella società per poi rivelarsi in tal modo nel privato fa paura anche solo pensare a una cosa del genere come puoi fare del male in questo modo a una ragazza che lavora per te per poi uscire a farti i cavoli tuoi io non ne ho idea però Sabrina lo faceva dobbiamo però ricordarci che sono presenti dei disturbi psichiatrici in Sabrina disturbi che lo ripeto lo sottolineo non sono una scusante però possono darci una spiegazione sui comportamenti deliranti di questa donna detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere qua sotto se conoscevate questo tristissimo caso ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao